Ciao a tutti, siamo a maggio e anche questo mese l'offerta veicoli commerciali di NiniCar SPA non poteva mancare. Renault Trafic L1 H1, motore 1.6 turbo da 120 CV, in offerta per voi per 9 pezzi, solo vincolata a questi 9 pezzi con targa nel mese di maggio a un prezzo bomba, 14.850 euro più IVA. Renault Trafic, motore come dicevo 1.6 120 CV, ovviamente con la di blu. Buongiorno a tutti, scusatemi, scusatemi. Ho un cliente in ufficio che ha bisogno di caricare dei tubi da 3.50 m. Ok, furgone grosso dici? Furgone grosso. No, va bene il traffic, abbiamo la botola, carichiamo oltre 3.50 m. Se abbassano i tubi va benissimo il traffic. Ma quanto viene? 19, 19 e mezzo più IVA. Se ha rottamazione di un veicolo commerciale o fa finanziamento con Renault, con noi targa entro maggio, 14.850 più IVA e se lo porta a casa. Sì Ale, però guarda che lui è un cliente esigente, non vuole un mezzo base, vuole un po' di optional, vuole un po' di comodità. Beh ma cosa vuole? I sensori di parcheggio posteriori? Sì. 14.850 più IVA. Non so, vuole i fendi nebbia? Sì. 14.850 più IVA. Cruise control? Sì. 14.850 più IVA. Climatizzatore, radio, bluetooth, usb, aux, vetri elettrici, specchi regolabili elettricamente. 14.850 più IVA. Quindi Ale, ho capito bene, 14.850 full optional? Sì. Ma no, ma dopo devo aggiungere altri costi, la messa su strada, l'IPT, il kit di approntamento, l'IPTU. No, no, 14.850 più IVA. Ti va bene? Venduto. Sì, ma solo da Nimica. Ciao. Ciao.